Il tempo, sapete come la pubblicità, non dov'è? C'è quella pubblicità, non mi ricordo di che prodotto, dove chiedono a ognuno, tu cosa vuoi? Lui dice, io voglio tanti soldi, io voglio la donna più bella del mondo, io voglio qui, io voglio... Poi arrivano un vecchio e gli chiedono cosa vuoi? E lui dice, I wish time, io desidero il tempo, quello vuoi? È il tempo, noi non abbiamo più la pazienza, perché? Perché uno ti viene a vedere il giovedì e poi dice, io la domenica non ho visto le cose che hai fatto il giovedì, ci mancava anche altro, è come andato a un contadino che sta seminando il giorno dopo, dice, io voglio, non c'è ancora la pianta, probabilmente ci vuole tempo, se no o ti chiami ceppu, o sei uno che fa i miracoli, non so se c'è qualcuno che fa i miracoli, oppure sei uno che vende fumo, cioè che cerca un pretesto per dire che lavori male, che non ti dà il tempo, e metti l'ansia adosso a chi lavora, metti l'ansia adosso e giudichi magari un giocatore non capace, quando invece lui può raggiungere quell'obiettivo, basterebbe aspettare un pochettino di tempo.